sono state introdotte le nuove etichette energetiche ma perché sono cambiate per l'ennesima volta sarà un cambiamento che il consumatore dovrà subire senza averne benefici no finalmente un cambiamento che porterà notevoli vantaggi mi chiamo gilberto lombardi sono online designer professionista con il video di oggi vedremo insieme che cosa è cambiato con l'introduzione delle nuove classi energetiche nel settore illuminazione e quali saranno i benefici l'introduzione delle classi energetiche avvenuta a fine anni 90 con lo scopo di indurre i consumatori a fare scelte sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico non sono mai state aggiornate in maniera regolare e negli ultimi anni ha portato soltanto a confusione infatti per stare dietro alla tecnologia venivano soltanto aggiunti dei più alla classe a ormai diventata obsoleta la nuova norma entrata in vigore il primo settembre 2021 ha fatto sì che nessuna lampadina in commercio in quel momento rientrasse nelle classi plus per intenderci quelle con il più vicino ma soltanto lampadine in classe e f o g lo scopo del cambiamento da parte della comunità europea è quello di stimolare i costruttori nella ricerca l'innovazione tecnologica dei loro prodotti produrre lampadine più performanti che consumano sempre meno comporta un minor consumo energetico e di conseguenza minore inquinamento e quindi rispetto per l'ambiente come possiamo vedere in queste due tabelle a sinistra quella della vecchia normativa e a destra della nuova in pratica una lampadina che prima si trovava in classe a più più ora è stata riscalata in classe f anche se il consumo non è cambiato e neanche la luce emessa il valore preso in riferimento è l'efficienza luminosa cioè il rapporto tra la luce emessa che si misura in lumen ed il consumo in watt nella tabella di sinistra una lampadina in classe a aveva un'efficienza luminosa di 55 lumen watt ora una lampadina per rientrare nella nuova classe a l'efficienza deve salire di quasi quattro volte ben 210 lumen watt come si alza questo valore molto semplice si abbassano i consumi per far sì che l'evoluzione prosegua è già stato stabilito un riscalaggio periodico ogni dieci anni che come appena avvenuto comporta la discesa di tutti i prodotti dalle classi superiori a quelle inferiori di fatto quindi il primo passo è avvenuto il primo settembre 2021 ad ottobre 2023 momento in cui sto registrando questo video a distanza di poco più di due anni dall'introduzione della normativa le lampadine in classe a sono entrate in commercio tutte le aziende leader del mercato come philips osram botlighting ma anche altre hanno già nei loro cataloghi le lampadine in classe a con efficienza anche superiore e 210 lumen watt in questa tabella presa dal catalogo botlighting 2023 vediamo che una comune lampadina led a goccia trasparente e 27 dal consumo di 7 watt con emissione luminosa di 806 lumen e classificata in classe f mentre in quest'altra tabella sempre del catalogo 2023 botlighting vediamo che la nuova lampadina in classe a identica nelle dimensioni e di emissione luminosa il consumo è decisamente più basso soltanto 3,8 watt una incredibile rivoluzione tecnologica con un risparmio di ben il 45 per cento rispetto alle lampadine led di generazione precedente in soli due anni di sperimentazione questa è la dimostrazione che il cambio ha portato veri benefici tangibili per il momento la differenza di costo è leggermente superiore ma come tutte le nuove tecnologie il gap di prezzo è destinato ad azzerarsi in tempi brevissimi quindi la prossima volta che dovete acquistare una lampadina o un apparecchio di illuminazione verificate di scegliere quello con classe energetica più efficiente l'ambiente vi ringrazierà per le minori emissioni di co2 derivanti dei minori consumi energetici se vi è piaciuto questo video mettete un like qui sotto e se non siete ancora iscritti al mio canale dedicato alla luce iscrivetevi un luminoso saluto a tutti e al prossimo video